Sì, buongiorno, siamo con il responsabile della protezione civile per indicare il percorso e farlo vedere a tutti per quanto riguarda le vaccinazioni che partiranno da mercoledì. Prima di iniziare è chiaro dare due indicazioni. La prima, mi raccomando, portate la vostra penna, ognuno deve venire munito della propria penna perché è indispensabile per poter firmare prima della vaccinazione e per questioni di igienizzazione della penna stessa è importante che ognuno abbia la propria. Il secondo, invece, è che qualora non bastassero i vaccini, ripeteremo a dicembre la vaccinazione. Quindi lo stesso impianto a dicembre verrà ripetuto. Adesso vi facciamo vedere il percorso. Ok, si entra da qui, dall'ingresso del palazzetto dello sport. Si può parcheggiare su due lati a fianco. Qui ci sarà il servizio d'accoglienza da parte degli alpini in questa struttura. Per qualsiasi tipo di informazione loro saranno qui come primo filtro, come primo ingresso. Poi si prosegue. Poi si Poi si Poi si Poi si Qui invece ci sarà il punto della protezione civile che da qui coordinerà le operazioni. Questo invece è il triage che sarà gestito dall'ordine di Malta. Qui vi verrà rilevata la temperatura prima di accedere all'interno. La tutura verrà finita domani. Questi sono i quattro box delle vaccinazioni. Ci sono già scritti i nomi per i primi medici di mercoledì. Ognuno seguendo questo percorso si dovrà recare all'interno del box dove verrà effettuata la vaccinazione. Ci saranno un medico e un'infermiera all'interno. Finita la vaccinazione si esce dal box e si entra nel corridoio. Possiamo andare in bagno sulla sinistra dove c'è anche l'infermieria qualora dovesse manifestarsi uno shock anafilattico e a destra invece c'è la camera di decantazione. E' buio adesso. Arrivati qui si deve sostare almeno un quarto d'ora su queste sedie. Sono distanziate l'una dall'altra come potete vedere. C'è l'orologio per tenere controllato il tempo che si stosta e poi si va verso quell'uscita. Lungo tutto il percorso sarà presente il personale della protezione civile e anche dalla polisportiva che ringrazio insieme agli alpini e all'ordine di Malta. L'uscita da quella parte. In questo modo i due flussi non si incrociano mai. Chi entra non incrocia mai chi esce. Qualora qualcuno dovesse avere difficoltà a deambulare può arrivare molto più vicino all'uscita però solamente in caso di necessità. L'uscita da quella parte. E l'uscita è direttamente sul parcheggio da questa parte. Perfetto. E così siamo di nuovo sul parcheggio dove abbiamo lasciato l'auto. Ricordo a tutti per favore di non arrivare subito al primo turno della propria vaccinazione. Ci sono diverse ore, ci sono quattro ore quindi si può anche limitare, si può anche splittare l'arrivo all'interno di questa fascia oraria. E mi raccomando portiamo tutti la penna e secondo qualora non dovessero bastare i vaccini che abbiamo a disposizione ripeteremo a dicembre di nuovo tutta l'operazione. Grazie.